luigi e lucrezia per voi oggi comincia una nuova missione comincia un nuovo viaggio siete mandati in due ma siete chiamati a diventare uno c'è una famiglia una coppia in cristo e qual è il vostro bastone il vostro amore il vostro amore che vi ha tratti il vostro amore che vi ha messo insieme il vostro amore che vi porta fin qui sull'altare siete chiamati ad essere la trama e l'ordito della vostra vita can we find a way io luigi accolgo te lucrezia come mia sposa con la grazia di cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia nel dolore nella salute nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita luigi ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà nel nome del padre del figlio e del spirito santo grazie 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 Grazie. 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 Grazie.